In un certo senso, reinventare il valore di Murano, non dico reinventare, ma evolvere il valore di Murano, quindi che non sia più un valore legato all'estetismo, al tecnicismo e alla bellezza, chiamiamola la bellezza museale, ma bensì lavorare sulla bellezza di come è fatto, cioè di come un prodotto viene fatto e perché viene fatto. Quindi noi crediamo molto che il futuro del vetro Murano appunto sarà dato da persone come noi, come voi e da migliaia di persone nel mondo intero che troveranno casa a Murano, anche e soprattutto per dei motivi anche commerciali, c'è una vetrina sul mondo intero, il mondo dello storytelling sta cambiando, come dicevo prima, diventando molto più organico, quindi meno digitale, meno organico, quindi più umano e quindi il fatto di dire bene ai 20 milioni di persone all'anno, queste 20 milioni di persone all'anno devono poter avere la possibilità di conoscere queste miliardi appassionati del vetro intero e essere collezionisti, clienti di queste persone che vivono per la loro passione e appunto è questo, è proprio anche un obiettivo di Laguna B, anche attraverso il progetto Autonoma, è di ridare passione alle persone.